buongiorno amici nel prossimo video andremo a vedere come creare la pasta madre dall'inizio come farla nascere bene vi auguro una buona visione visto che seguite spesso le mie ricette con la pasta madre ho pensato di far vedere proprio come si crea la pasta madre dall'inizio ho preparato due etti di farina zero naturalmente voi potrete anche usare zero zero come volete allora due etti di farina 100 grammi di acqua del rubinetto l'ho fatta decantare un pochino io userò uno starter per far partire la lievitazione metterò una puntina di miele mezzo cucchiaino ma ne basta una puntina questo è un miele millefiori dell'alto adige l'ho preso direttamente da un contadino la pasta madre si può creare anche senza niente semplicemente con acqua e farina ma io preferisco fare in questo modo la mia pasta madre che uso sempre ha già all'incirca tre anni questa che creerò adesso vi metterò un nome come di solito si fa una volta partita la regalerò ad un'amica allora questa pellina adesso va dentro un contenitore e va lasciata a temperatura ambiente per far partire la fermentazione la lascerò 48 ore quindi ci vediamo non domani ma dopo domani sono passatevi 48 ore riprendiamo adesso la nostra pasta madre procediamo con il primo rinfresco questo è il terzo giorno eccola qua sta già fermentando vedete ha formato già degli alveoli piccolini e ha un profumo leggermente di aceto molto leggero ok togliamo la parte superiore se è un po secca e poi pesiamo i 200 grammi di pasta madre qui abbiamo 200 grammi di farina sedacciata e 100 grammi di acqua quindi le stesse dosi dell'altra volta stessa stesso peso in carina della pasta madre e la metà in acqua sciogliamo come al solito prima la pasta madre in un cucchiaio con le mani come volete in un cucchiaio con le mani come volete bene la nostra pallina è pronta e facciamo la parola e facciamo la parola e facciamo il barattolo che deve essere pulito poi pratichiamo il classico taglio a croce e la rimettiamo dentro il barattolo coperto da pellicola la lasceremo lievitare altre 48 ore facciamo anche un segno sul barattolo per vedere la crescita siamo arrivati al quinto giorno come possiamo vedere la pasta madre comincia a crescere molto procediamo per il secondo rinfresco togliamo la parte iniziale poi pesiamo 200 grammi il resto lo dobbiamo buttare perché non è ancora pronta per panificare procediamo allo stesso modo 200 grammi di pasta madre 200 di farina e 100 di acqua rimettiamo la nostra pasta madre nel barattolo per altre 48 ore dopo il terzo rinfresco quindi dall'ottavo giorno dovrete rinfrescare tutti i giorni quindi ogni 24 ore e tenere sempre a temperatura ambiente fino al tredicesimo giorno non preoccupatevi se delle volte non cresce più di tanto mano a mano che andrò davanti con i rinfreschi prenderà più corpo bene ora la nostra pasta madre è pronta adesso proseguo al rinfresco la terrò una mezz'oretta fuori e poi la metto in frigo ma non tutta me ne tengo un pezzettino per le mie ricette vi consiglio di non tenerne tanta da parte altrimenti quando poi rinfrescate vi trovate tantissima pasta madre quindi dai 100 ai 150 va bene ricordatevi di dare un nome alla vostra pasta madre spero di essere stata chiara vi ringrazio per la visione ciao e buona panificazione a tutti